La prima gara nazionale delle Olimpiadi in informatica squadre, è il primo anno per la nostra scuola che prendiamo parte a questa iniziativa e ha riscosso un grande successo fra i ragazzi delle classi quarte e quinte a indirizzo informatico e quest'anno si sono creati dei gruppi eterogenei per poter competere a questa gara. La gara è strutturata in quattro gare che si svolgono ai mesi novembre, dicembre, gennaio e febbraio ogni gara prevede l'assegnazione di esercizi, la loro risoluzione per contribuire a un punteggio totale. Le squadre che ottengono il maggior punteggio andranno alle fasi finali che si terranno a marzo a Bologna. I ragazzi hanno risposto molto bene a questa iniziativa, sono rimasti entusiasti di poter affrontare delle prove diverse dal solito esercizio in classe e tutti insieme vanno a contribuire a un raggiungimento degli obiettivi comuni.